L'incidente nella strada di giovedì 31 ottobre, poco prima delle 22, sulla strada provinciale 39 che collega Lombardora a Riva Rossa. Una Fiat Panda, condotta da una donna di front, è uscita di strada, andando ad impattare contro un cancello situato nella parte opposta della carreggiata, e terminando la sua corsa ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino e Bosco Nero, la croce bianca volpianese, i carabinieri di Leny e i tecnici del gas per controllare una tubatura colpita dall'auto. Nonostante il forte impatto, tanto che la portiera si è staccata e il cancello si è piegato, la donna ha riportato fortunatamente solo qualche contusione e tanto spavento, ed è stata medicata sul posto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.